Per realizzare Grimani effetto Kashmir, stendere con frattazzo una prima mano di prodotto nella tinta C541, avendo cura di muoverlo successivamente con movimenti circolari prima dell'essiccazione, utilizzando il palmo della spatola. Una volta asciutta la prima mano, ripetere l'operazione precedente con le stesse modalità per ottenere maggior pienezza dell'effetto. Grazie.